Antonella Restellico, titolare della Macelleria in Centro e madre dell'Angelo Bonetti, titolare dell'omonima azienda agricola e macello. Come mai questa scelta di un'azienda di famiglia un po' allargata? Per poter portare avanti questo discorso e poter aiutare il figlio in questa sua iniziativa e far sì che lui possa comunque andare avanti, visto che il suo sogno è nel cassetto. Difficoltà? Beh, difficoltà come oggi sono tante, però l'importante è riuscire ad andare avanti. Per ora ci sono soddisfazioni? Beh, le soddisfazioni sono del continuo lavoro, clienti nuovi, farsi conoscere. Macelleria in Centro da 33 anni, l'unica rimasta in paese, cosa spinge ad andare avanti? Eh beh, a me è arrivare la pensione, quindi arrivare e portare avanti ancora i due anni e poi spero che poi mio figlio possa continuare qua e portare avanti questa attività.